Voglio muovermi un pochino sul tema dell'acqua, perché tu sei un... diciamo che ti presenti anche ufficialmente come un esperto, come una persona che si è specializzata nella gestione dell'acqua e nella lettura del paesaggio, se non mi sbagliano, quindi voglio parlare un po' di questi due temi. Per quanto riguarda l'acqua, ho delle domande specifiche, perché altrove hai parlato tanto di acqua, quindi evito di fare le classiche domande. Quindi vado su un tema che mi sta a cuore, perché è qualcosa che studiando mi sono sempre chiesto e ho raramente trovato, formalizzato bene questa cosa. Quando, secondo te, perché ho sentito anche che sei stato critico di questo approccio in alcuni contesti, l'approccio keyline, cioè l'approccio di Paul Yeoman, è valido. Cioè, questa idea che facendo una ripuntatura lungo delle linee particolari che seguono, sono parallele fra loro e vanno da un displuvio, scusate, da una parte alta di un impluvio alla parte bassa di un displuvio, possa ridistribuire l'acqua, soprattutto sotterranea, sul paesaggio ed essere anche fornire un pattern di coltivazione. Quando credi che sia appropriata e quando no? E qual è il tuo pensiero su questa tecnica? Allora, partiamo dal pensiero sulla tecnica, così togliamo la parte più generale. Io credo sia una tecnica molto valida, ma per condizioni specifiche precise. Nel senso, intanto è nata in Australia con una geologia molto differente, un'orografia molto differente a quella europea e a quella italiana, e quindi nel trasferirla, a mio avviso, va adattata, perché non permette di, secondo me, trovare quelle stesse condizioni. Seconda cosa, spesso viene studiata per ambiti molto ampi, cioè Yeomans l'ha, diciamo, definita e strutturata per ambiti da 300 ettari, ok? Per aziende agricole di 300, 200, anche 500 ettari. E con quelle tipologie di colline lì. Non che non ci siano in Italia, ci sono, però noi abbiamo ambiti molto più ristretti, più piccoli. Quindi, quello che a me piace di quella, di questa tecnica, che poi è una tecnica che in realtà è costruita anche su tutto un sistema di progettazione, no? Certo, certo. Per la permanenza di Yeomans, però non c'entriamo, però stiamo concentrati su questo. Quello che mi piace di questa tecnica è il fatto di ragionare sullo spostare l'acqua, ok? Proprio ragionando sulla divergenza dalla curva di livello classica, ok? Che ti porta l'acqua a distribuirsi uniformemente e a portarla dall'impluvio, cioè dalla valle verso il crinale, cioè al displuvio, no? E fin qui lo trovo stupendo. Quando mi sono messo a studiare l'acqua da un punto di vista di idrogeologia, ho scoperto che esistono le curve di livello piezometriche. Sotto le curve di livello sottoterra, che sono quelle dove tu hai la parte impermeabile, ok? Su cui l'acqua scorre. E io mi sono stupito quando ho scoperto che le curve piezometriche, che è una cosa a cui ci potrei arrivare, ma io non sapevo nemmeno che esistessero, quando mi sono messo a studiare un po' d'anni fa stavamo qui, non corrispondono alle curve di livello. Cioè l'acqua in realtà va anche in direzione opposta, non ostinata e contraria, ma va in direzione opposta e volentieri, ok? Perché la massima pendenza delle curve di livello piezometriche è in direzione opposta. Tanto è vero che quando noi parliamo di, facciamo un esempio semplice, no? Noi quando ragioniamo su una valle abbiamo il crinale che è la cima della collina, no? E quella si chiama bacino idrografico, l'area di captazione. Su tutta l'acqua che piove è come lo spiovente di un tetto, ok? Facciamo una più semplice, lo spiovente di un tetto, tu hai il colmo del tetto, no? Tutta l'acqua che piove è a sinistra, va a sinistra, l'acqua che piove è a destra, va a destra. Ok, qui è tutto chiaro. Quando poi tu vai a vedere com'è il bacino idrogeologico, in realtà una, può succedere, non vuol dire che è una regola, una parte dell'acqua che piove è a destra, sotto terra lei si infiltra mentre scende dalla collina, e poi va a sinistra. Questa cosa che mi ha fatto domandare, ma quando si fa la progettazione in key line, che non reputo sbagliata, si tiene conto di questo aspetto? Perché potrebbe essere che io metto l'acqua dall'impluvio verso il displuvio, in realtà magari da un punto di vista di scorrimento sotterraneo, l'acqua nel displuvio c'è già, perché io ho trovato falde subsuperficiali nei displuvi, dove non dovrebbero esserci, poi impare a riconoscerle, no? Quelle condizioni. Io non dico quindi che sia una regola, però è una cosa che mi ha fatto domandare, cioè non se sia utile o meno, ma se quando si progetta usando il key line si tiene conto di questi aspetti anche geologici e di com'è il sottosuolo, no? Perché comunque col key line non è solo uno spostamento superficiale dell'acqua, cioè non è solo il canale che noi facciamo con lo Yeoman's Plow, con l'arato Yeoman's, no? E sposti l'acqua lì. In realtà tu vai a ricaricare, no? Un fianco di una collina e l'acqua la sposti anche da un tutti di spostamento subsuperficiale. L'altro aspetto poi che c'è secondo me, e che ho notato anche guardando progetti in key line che ho avuto modo di vedere quest'anno e l'anno scorso, quando l'acqua noi scende da una collina o abbiamo adottato delle tecniche di coltivazione con lavorazioni classiche in convenzionale o biologico sia, no? Quindi aratro e suolo lavorato, quando noi andiamo a fare la lavorazione in key line, in realtà dovremmo spiegare alle persone a cui facciamo questa lavorazione che non è che si schiocca le dita e cambia. Perché, e spesso spesso succede, le persone non si ricordano che l'acqua, quando si sposta giù nella collina, distribuisce per granulometria tutte le particelle di suolo. E l'ultima che distribuisce è l'argilla. Tu quando vai a lavorare in key line, dici io sposterò l'acqua dall'implugio verso il displugio, comunque la riuscirò a distribuire in un certo modo. Ma devi tenere conto che magari per vent'anni è stato lavorato, ottenuto un terreno in un certo modo e tu hai proprio il suolo, è distribuito le particelle superficiali che poi tu vai a fare la ripuntatura, diciamo, no? Tu hai in fondo alla collina una quantità di argilla per cui comunque l'acqua lì appozzerà, comunque non infiltrerà, comunque rimarrà a galla. E questa cosa qua mi è stata fatta notare in un progetto fatto in key line dove lo stesso progettista mi ha chiesto come lo risolvo? E gli ho detto uno, devi dire al cliente che per quattro anni dovrà avere pazienza perché stiamo cercando di trovare un processo per cambiare questa cosa. E due, non hai tenuto conto che lì c'è l'argilla da 20-30 anni di lavorazioni, anzi dove appozzava l'acqua era dove in realtà arrivavano le scoline classiche che vengono fatte, no? in contropendenza sulla collina. Quindi lì, ancora di più con la scolina che è di fatto un canale che porta via l'acqua, l'argilla ti arriva in fondo e tu hai una banca d'argilla che in qualche modo ne devi tener conto. A me è questo un po' su key line che mi lascia perplesso. Non la tecnica, ma, e qui lo so che tante persone, ma tanto succede sempre con me, sono sempre così un po' provocatorio, non la tecnica, ma spesso chi la applica. Perché ci sono persone che reputo preparatissime in materia in Italia, altre che magari hanno fatto due o tre corsi e non hanno sperimentato, e sperimentano a casa d'altri e insomma fanno danni, ok? Danni fra virgolette, non è che causano chissà che, ma di fatto fanno danni da un punto di vista e non risolvono il problema. E due anche, passami l'espressione, rovinano anche la tecnica, no? Perché poi uno vede che non funziona e che si è praticata male. Sì, e poi dice, questa roba me l'hanno fatta e non funziona. E tu dici, ma porca miseria, cioè. Diamo un attivino con calma, no? È un po' questo. Però credo che sulla questione della geologia, la differenza geologica è anche orografica, fra Europa e Australia, questo sia un aspetto. Ho sentito alcune persone molto formate su chi l'ha in parlarne. Io vorrei approfondirlo e capire meglio, perché vedo la differenza, so che c'è la differenza. E secondo me è fondamentale, perché lo rimetti in contesto. Che vuol dire, secondo me, sempre una cosa? Noi possiamo prendere una tecnica stupenda, fatta, definita in Australia, e trovare come applicarla in Italia. Non si chiamerà magari più che la, o gli diamo sempre il riconoscimento a Yeomans, che è Keyline, però dobbiamo capire come riapplicarla in Italia. Ok? Come la riapplichiamo in condizioni che non sono quelle per cui è stata definita? Perché, voglio dire, quelle condizioni per dire, Matteo Mazzola, Easy the Farm, lui ha delle condizioni perfette, no? Per fare un esempio di Keyline, l'ha fatto, nel frutteto l'hanno fatta Easy the Farm, no? Perché ha una collina che è simile a questa immagine che tu stai mettendo, Sono un po' più piccola, voglio dire, è quindi perfetta in questo modo qui. Cioè, queste sono condizioni che non trovi ovunque in Italia. Sono soprattutto rare su appezzamenti di media, piccola, grandezza. Cioè, se non hai un paesaggio intero su cui lavorare... Se non hai l'impluvio, che sposti? Cioè, se non hai l'impluvio e l'impluvio, cioè, non hai l'impluvio e l'impluvio o sposti nulla. Però puoi sempre ragionare con la... Questo è il punto che mi ha portato. Puoi sempre ragionare nell'ottica, però, di Keyline, no? Sì. Cioè, quello che ti dà... È sempre, secondo me, un po' questo l'importanza di certe tecniche. Devi capire, non, secondo me, solo cosa viene fatto, ma qual è il processo che ha portato a fare quella scelta. Quando tu hai capito il processo, quel processo è quello che ti ispira e ti stimola ad applicarlo in un altro ambito o a trovare una soluzione che è adatta al tuo contesto. Non vuol dire fare il copio e incolla e poi se non funziona dici, vabbè, capito, non funziona e lo butto via. Cerchiamo di capire qual è il processo, perché si è fatta quella cosa lì. Bene, come lo replichiamo nel contesto orográfico e, diciamo, di paesaggio italiano? quella sarebbe la sfida più bella. Hai toccato due temi, uno ci voglio tornare dopo del fatto di chi sperimenta sulle terre degli altri e l'altro è molto interessante, secondo me è anche un motivo per il quale tante persone che vengono da un background diverso in agricoltura tendono ad avere un approccio meno dogmatico, cioè, soprattutto chi viene da un ambito scientifico, tecnico, è un po' più uso, diciamo, non so se è una parola in italiano, è un po' più pronto a non applicare ricette, Cioè, nel senso che quando lavori in ingegneria, nella scienza, guardi un po' al ragionamento che ha portato a una teoria e poi se devi fare ricerca originale quello che fai è vai a adottare quel modo di ragionare che ha portato a una teoria magari in un campo completamente diverso dal tuo, lo applichi al tuo campo, al tuo contesto, al tuo problema e trovi un risultato completamente diverso, una ricetta diversa, c'è meno questa tendenza a voler riportare una ricetta tale e quale in un contesto diverso, no? E che invece è un problema che spesso si vede, credo che capiti anche a te, capita spesso a me, infatti, poi ne parliamo dopo, io ho un articolo su cui sto lavorando, un pezzo su cui sto lavorando da un anno che tutte le critiche al sistema NoDig, penso di essere il più critico al mondo sul sistema NoDig, però c'è sempre l'impressione quando mi fanno domande che io sia un po' tipo una persona che pensa che il NoDig vada bene ovunque, perché l'ho fatto nell'azienda prima, l'abbiamo anche usato un po' come una strategia di comunicazione, cercare di introdurre la gente a quel tema lì, però ecco, le domande che mi arrivano e immagino che capiti, anche a te, sono tutte tipo come posso fare esattamente quello che fai tu nel tuo contesto da me e poi il contesto è completamente diverso climaticamente, pedologicamente, e quindi c'è proprio da smontare questo modo di ragionare, no? Non so se capita a te in cose particolari, magari... Assolutamente, no, no, capita costantemente, l'esempio classico che ti posso fare è quello che ricevo messaggio, anche telefonate, messaggi, vocali, whatsapp, ciao Ascolto Lenzo, ho visto le tue fotografie, voglio i muri a secco, voglio i terrazzamenti anch'io, e di solito la prima manda e faccio, scusa, hai pietre? No, e allora perché vuoi i terrazzamenti? Cioè, i terrazzamenti non è che si fanno per un motivo che stessi sono fatti perché c'era suolo e c'era un sacco di pietra, cioè le due cose vanno insieme, no? Hai pietra, fai i terrazzamenti, poi ci sono altre soluzioni, i ciglioni inerbiti, le palificate, tutto quel che ti pare, no? Però spesso, no, ti viene chiesto appunto, no? Dici, voglio fare come te, ma non hai le stesse condizioni, cioè, voglio dire, io penso, se ci spostiamo da Olivicoltura Memei, la condizione è completamente diversa delle mie, in cinque chilometri, figuriamoci se io e te, tra Firenze e Gagliolo possiamo fare la stessa cosa, no? Cioè, quello assolutamente, quello succede spessissimo, guarda. E una parte delle condizioni è anche il nostro modo di lavorare, proprio personale, no? Il nostro stile, quello che ci piace fare e non è da sottovalutare perché anche quella è parte del, se vogliamo, fra virgolette, tante inverted commas, è parte dell'ecosistema con cui lavoriamo, no? Cioè, è inutile che faccia una cosa che non mi piace per niente fare anche se poi vado controcorrente cederò a un certo punto, quindi anche quello che è importante. Va bene, un'altra questione sull'acqua, ecco, sono le sue, sono un'altra questione che emerge spesso, io da osservatore esterno vedo questi dibattiti, no? E mi interessa tanto perché proprio non, non ne so tanto, non ho mai lavorato su una scala così grande e sono molto diffidente quando si tratta di muovere il terreno su una scala così grande. Cosa ne pensi di questa tecnica e quando la adotteresti e quando invece pensi che è proprio sbagliata? Allora, io non amo le Swale, nel senso che, poverine, amo il concetto, amo le Swale, non amo chi le applica spesso, perché spesso vengono applicate in un modo sbagliato, prima di tutto perché non si tiene conto del pendio, perché comunque sopra a 18 gradi, scusami, sopra al 18% non si, non si fanno. Perché puoi avere problemi di landslide, di smottabilità. Esatto, esatto. Allora, aspetta, ora mi sono convosito tra percentuali e gradi, perché inizio tra giorni in percentuali e allora, 18 gradi è il 17, il massimo, credo che 17 gradi siano il 33%, tipo una roba del genere, ma va bene, però quello si guarderà. Comunque, la regola di solito è sopra 16, 18 gradi, facciamolo in gradi, non si fanno più Swale, e si parla di sistemi forestali e alberi, ok? Le Swale spesso sono, quindi, applicate in contesti errati, sono applicate male perché il concetto della Swale è di un sistema, no? Che è di più canali uno sotto l'altro e qui si entra nel grosso problema che le persone non sanno qual è la distanza tra i canali. Sì. Quindi tu vedi magari delle Swale che sono come queste qui che si vedono in questa immagine, che non è la scoscieta che qui posso... No, l'ho preso da internet, non so dire. No, va bene, va bene, però dicevo, no, io non ce l'ho così, non ho Swale. Allora, in base al pendio aumenta la distanza, cioè più il terreno è, diciamo, dolce come pendio, ok? Più la distanza può aumentare, più si inizia a salire e più la distanza si ravvicina. Questo perché? Perché ogni volta che tu hai un canale, quel canale ha un'area di captazione, no? E se io ho un'area di captazione molto ampia e che i canali li faccio molto lontani e ho un terreno però con un forte pendio, aumento la quantità di acqua che quel canale dovrà gestire e aumento il rischio che causi poi erosione perché ci sia un cedimento. Cioè, sono mille, non sono mille, sono quattro o cinque variabili di cui tenere in considerazione da cui partire proprio per la progettazione di un sistema di Swale e io devo dire la verità, la spiegazione, l'elenco delle caratteristiche più importanti da tenere in considerazione, più chiara che ho trovato è un manuale scritto da una cooperativa di gestione acqua piovana in India, che è un manuale che si trova in inglese in download gratuito, che secondo me è il miglior manuale che ho letto sull'acqua perché parla anche delle condizioni di chi lavora per scavare i bacini, parla della condizione delle donne lavoratrici che scavano i bacini, fa tutta una serie di discorsi molto politici, anche socio-economici, di analisi. Questo spesso io non lo vedo fatto in Italia, spesso anche nei corsi in cui persone che hanno frequentato corsi di permacultura in cui comunque si parla anche di acqua, poi ti parlano delle Swale in un modo che a me viene l'orticaria, gli rispondo con molta calma perché non è colpa loro, vedi, cioè non è colpa della persona che mi fa la domanda perché gli è stato spiegato male la cosa, ma credo che oggi sull'acqua in generale, non solo le Swale, ci sia molta superficialità, venga insegnato male la gestione dell'acqua piovana, io non credo di essere un esperto, però ho avuto dal 2016 in avanti una scuola che è la Scoscesa in cui ho forte pendio e mi sono messo lì e tutti gli errori l'ho fatti prima a casa mia, no? E ho studiato molto e cercando di vedere poi quello che studiavano in pratica da me. Spesso, prima ancora di fare una Swale, bisogna lavorare sul suolo, ok? Sulla copertura, cioè questo è il punto, no? La gente pensa che si fa il movimento terra, il movimento terra si fa già solo seminando, ok? Perché il movimento terra lo stanno facendo le radici e le Swale poi sono una cosa che va fatto, è un sistema perché aumenta la capacità di ritenzione dell'acqua appunto perché hai vari canali uno sotto l'alto e poi è un sistema che però prevede un sistema agroforestale. Piantare sul lato alto delle Swales? Lato alto e lato basso, dipende. E anche dentro la Swale, per esempio, in realtà, dipende dalle condizioni climatiche, in alcuni casi alcuni alberi non vogliono tutta quell'acqua, e le mettiamo nella parte sopra al canale in modo che arrivano all'umidità ma non rischiano di essere soffocate le radici. In alcuni casi si pianta sulla Berma che è il cumulo di terra che c'è appena sotto al canale. Alcuni casi si trapianta sotto proprio anche alla Berma. In certe condizioni climatiche si pianta nel canale gli alberi perché cerchi di massimizzare la possibilità che quell'albero abbia accesso a quell'acqua che staziona lì che comunque in un clima secco non è che staziona lì e rimane lì come un clima in cui magari l'argilla per dire è satura, spesso non è nemmeno l'argilla in climi molto aridi. Per esempio ho amici che hanno progetti a Cipro e a Creta che sono posti che sono degli inferni a forma di isola nel senso che climaticamente sono veramente sfidanti, sono veramente al limite e loro hanno le swale raccolgono tutta la possibile acqua e loro hanno piantato gli albi dentro al canale. Ma io non ti vado a spiegare questo se tu sei in Piemonte perché ovviamente in Piemonte tu non farai questo e spesso sull'acqua non si contestualizza nemmeno la regione climatica in cui si adottano certe soluzioni. È difficile fare un case statico così ipotetico però un caso se cerco di pensare a un qualcosa di pratico che possiamo per contestualizzare un po' queste cose che hai appena detto in media chi lavora con la pendenza ha una porzione di terreno che non ti offre l'opportunità di avere un displuvio un impluvio ma semplicemente una pendenza se ci fa agricoltura sopra soprattutto orticoltura è una pendenza abbastanza dolce da consentirti di farla a meno che non ci sono terrazzamenti quindi consideriamo il caso magari di una pendenza come quella che vediamo in figura che già inizia ad essere significativa però è abbordabile senza terrazzamenti in quel caso lì dipende chiaramente dal clima magari puoi aggiungere qualcosa in questo senso però quando considereresti primo perché secondo quando considereresti l'opzione di fare una swale cioè in che contesto specifico e se farla su linea di livello oppure se anche in quel caso farla per esempio su key line cioè su un key line pattern cioè con un leggero con una leggera pendenza che poi sia in questo caso magari non è verso il displuvio l'impluvio eccetera però semplicemente ti consente di drenare e raccogliere quell'acqua da una parte se ci vuoi fare un esempio allora ti dico subito in un terreno del genere che per me non è un pendio troppo accentuato non avrei fatto swale così immaginiamo i tuoi lotti ok così almeno chi ti magari che ci ascolta conosce anche la tua realtà immaginiamo ok il tuo pattern di lotti che tu hai lì nel progetto ora a Firenze no è tutto piatto però questo qui immaginiamo che sia su un pendio no no ma immaginiamolo in quella fotografia di quel prato lì però per far capire il pattern di lotti tuoi ok però su quel pendio lì prima cosa non farei swale userei camminamenti come swale ok ma non farei non userei ogni camminamento come swale lo userei nel lotto cioè se io facessi lotti che seguono nella lunghezza no ma che seguono il pendio cioè le wall che scendono e do un lotto specifico io farei un canale in cima che mi funziona da camminamento e molto probabilmente quel canale lo riempirei subito di materia organica oppure nel tempo cioè tutti i residui culturali o foglie o roba anche input che compro dall'esterno perché alle volte devi anche accelerare e compri voglio dire userei quello se ho un lotto magari che mi occupa 10 metri in base al pendio terei conto delle distanze tra i canali che dovrei adottare in un sistema di swale e direi ok mi sembra che dallo 0 al 4% gli indiani dicono che tu puoi fare la swale ogni 10-12 metri farei dei lotti in cui quando arrivo al decimo metro ho un altro camminamento che mi fa da canale di infiltrazione ok in questo modo qua io certo che massimizzo tutta l'acqua che piove che mi viene raccolta in quel canale viene infiltrata e assolutamente magari non ho un impluvio un displuvio però ho dei punti in cui il mio terreno è più umido e dei punti sono più asciutti esatto a quel punto proverei e lì però c'è la variabile di come è il pendio come vuoi orientare lei vuole però cercherei di fare in modo che di avere un canale di divergenza sempre nel camminamento che mi permette di drenare l'acqua nel punto più umido e cercare di distribuirla verso il punto più secco ovviamente questo è hai fatto il canale che funziona dal camminamento quindi stai di fatto anche evitando che quell'acqua evapori ok poi hai una gestione del suolo che in un certo modo perché comunque si presuppone che uno faccia un tipo di agricoltura che appunto o H over crops o più possibile tenta di tenere coperto il suolo poi certo quando si semina e c'è un periodo in cui non c'è niente devo ancora germinare le piante grande dibattito ci sarebbe fra trafianti e semine io so per i trafianti però dovrei avere un vivaio gigantesco perché mi piace più perché almeno posso lavorare e trafiantare e almeno copro diciamo più velocemente e ricopro il suolo quindi hai gestisci anche il suolo in un certo modo hai fatto i canali con i camminamenti devi tener conto del pendio devi tener conto di come direzionarle secondo me sarebbe una soluzione fantastica la cosa vedi cos'è alle volte la soluzione più bella non è l'escavatore corbacino una cosa gigantesca è un gruppo d'amici una grigliata e in un giorno fai questa impostazione qui capito che voglio dire cioè ed è una soluzione molto semplice che in realtà col tempo nemmeno la vedi più sì perché le migliori secondo me possibilità che ci sono di gestione dell'acqua piovana sono quelle in cui non hai l'impatto ma anche la gestione dell'acqua piovana si inserisce all'interno di quello che è l'ecosistema e diventa parte integrante perché lo rende anche meno fragile come sistema ok perché comunque rende più capace tutto l'ambiente di entrare in condizione con quella soluzione che tu hai adottato tenendo anche conto che comunque sulla gestione dell'acqua piovana quasi sempre richiede manutenzione da parte nostra come specie noi dobbiamo comunque mantenere però io ho adottato in ultimi anni alcune soluzioni che non richiedono manutenzione praticamente ci sono arrivato col tempo per cui una parte di una strada di campo da me diventa un bacino ma in realtà è un dosso all'interno della strada ma quello raccoglie 2-3 mila litri ok quindi quando piove semplicemente so che non passo di lì con un motocoltivatore o con la motocariola per spostare materiale perché rovinerei perché il suolo è saturo però adotti questa cosa per cui la strada svolge più funzioni a un certo punto quando piove tanto un bacino ora è pieno perché è piovuto e poi ci sono tutta un'altra serie di soluzioni che si possono adottare questo secondo me deriva molto dall'esperienza e dal praticare dallo sperimentare tanto soluzioni per la scoscesa nei libri di Brad Lancaster o di altri non è che le trovo mi devo ispirare a quelle soluzioni lì capito? sì come dicevamo prima appunto ragionare in quel modo però quindi faccio lo studente che cerca di vedere se è capito bene se ho un pendio un contesto diciamo simile dove voglio fare orticole ma voglio anche un sistema agroforestale ho un pendio che va da sinistra a destra quello che faccio è mi studio la pendenza e determino la larghezza quindi metto oriento i miei letti indicativamente poi aggiungo un dettaglio indicativamente lungo le linee di livello anche se magari poi le angoliamo leggermente in una direzione o nell'altra però la larghezza dei miei lotti è determinata dalla distanza fra queste ipotetiche swales che dipende dal pendio poi sulle swales posso usarle sia come raccolta d'acqua sia come camminamento ma anche uno dei due lati potrei usarlo come linea agroforestale giusto? assolutamente allora tieni conto poi che le distanze non sono una regola scritta nella tavola delle leggi cioè nel senso tu puoi anche aumentarle però diciamo quell'effetto per esempio se io prendo questa fotografia qui tu hai il lotto partendo da sinistra io farei un canale al lato di quel lotto lì poi alla fine del lotto tu hai credo una linea agroforestale sì ok lì avrei fatto un altro canale e poi la linea agroforestale a quel punto non fai nel camminamento con la linea agroforestale un altro canale perché ce l'hai e quindi sarei andato avanti così a settori no ok che tu abbia una linea agroforestale o meno è che lo unisci quindi sommi quella roba lì capito poi la cosa interessante è che nel tempo in realtà quando una swale funziona bene si riempie di materia organica non vanno pulite e io vedo gente che le pulisce come se pulisse le canaline no e tu dici no guarda veramente funziona così perché la swale è una spugna poi no certo lì si dovrebbe mettere sostanza organica e diventa una spugna a me quello che piacerebbe addirittura è allora per renderla ancora un po' più linea agroforestale swale e in realtà la swale vicina alla linea agroforestale avere metà swale camminamento perché devi arrivare all'otto ma l'altra metà potrebbe essere in realtà una sorta di spugna che tu crei per la linea agroforestale ma su cui poi nel tempo andrai magari a mettere roba perenne si diceva anche prima spontanea magari anche un po' più esigente che avrebbe tanta fertilità piccoli frutti eccetera capito addirittura appunto piccoli frutti cioè vedi come in realtà una soluzione per l'acqua in realtà poi ha tantissime se la vedi da un punto di vista no a 360 gradi ti dà la possibilità di trovare poi tantissimi altri utilizzi che potresti fare per cui veramente secondo me e sarebbe una cosa molto semplice di fatto avresti adottato un sistema di swale ma non sono swale perché sono camminamenti però funziona nello stesso modo questo quindi ci sono esplendose le le